Uomini e De Ostia Antica in mostra al Molo A dell'Aeroporto di Fiumicino. È stato inaugurato stamani, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Molo A dell'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino e con l'occasione è stata inaugurata la mostra Uomini e De Ostia Antica. Lungo il corpo di collegamento verso il Molo A, infatti i passeggeri potranno ammirare sculture e pitture di età romana lungo il percorso espositivo Uomini e De Ostia Antica, un progetto scientifico curato dal Parco archeologico di Ostia Antica con il supporto logistico di ADR. In mostra una selezione di opere che rappresentano soggetti di natura umana, come la statua di Sabina, moglie dell'imperatore Adriano, seppur ritratta nelle sembianze divine di Cerere, il gruppo scultore o con giovani lottatori e i protagonisti delle due pitture parietali, un giovane cavaliere e una coppia di coniugi, accanto ai quali sono le tre statue di personaggi divini, quali Apollo con la cetra, o semidivini quali le ninfe e la divinità maria, in oleocotea. Le opere, conservate nei depositi del Parco archeologico di Ostia Antica, provengono da importanti contesti di carattere civile, quali le terme di Nettuno e il teatro, residenziale, come la Domus del Protiro, nonché funerario, la necropoli di Portus all'isola Sacra. Esse connotano non soltanto il centro urbano, ma anche il territorio di quello che in antico era l'imponente sistema Ostia Portus. Attraverso le grandi infrastrutture portuali, le ritte residenze, i quartieri commerciali, i templi e i santuari, le sedi istituzionali e di rappresentanza, le strade, le necropoli, i complessi termali e teatrali, emergono le storie di uomini ed è, per l'appunto, a raccontare la vita, la società e la cultura anzi, le culture di uno dei più importanti centri del Mediterraneo Antico, Crocevia di Genti, Beni e Merci, Ostia, Porta e Porto di Roma. L'inaugurazione del Molo A e del contestuale percorso espositivo ha visto la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente è stato accompagnato nella visita alla mostra dal direttore generale Musei Massimo Zanna, dal direttore del Parco Alessandro D'Alessio e dal responsabile dell'ufficio mostre Cristina Genovese.